L'ultima trovata nella campagna elettorale per il referendum del nostro Presidente del Consiglio Renzi è il ponte sullo stretto di Messina. Secondo lui una priorità. Sappiamo benissimo e tutti gli italiani lo sanno che non è assolutamente una priorità per il nostro Paese perché le priorità sono ben altre. Sono strade che non vanno, strade con le buche, ci sono ferrovie, ci sono i ponti. A proposito di ponti, in provincia di Pavia ci sono un buon numero di ponti sul Po che necessitano di manutenzione e necessitano di una particolare attenzione. L'anno scorso abbiamo chiesto al Governo di stanziare 70 milioni di euro per sistemare il ponte della Becca e ci hanno detto che non era una priorità per questo Governo. Ma se la priorità è il ponte sullo stretto di Messina e non tutta l'Italia che sta crollando, io farò un invito ai miei concittadini e agli amici della mia provincia. Trasferiamoci tutti in Sicilia così almeno diventeremo, almeno per una volta e almeno per due mesi, una priorità per questo signore che si chiama Matteo Renzi che ci sta mandando tutti allo sfascio. Grazie.